Bene ragazzi, bentornati in questo nuovo video, sto registrando con l'iPhone perché sono sparsi un po' per via del traslogo a destra e a sinistra ma volevo fare comunque oggi questo video perché i mercati in questa settimana hanno fatto veramente i botti, soprattutto ETH in realtà io avrei preferito, lo sapevate già, una decina di giorni di settembre di riflessione del mercato non ribasso però neanche questa parte up, anzi contavo di vedere BTC intorno ai 46 per poi fare i miei acquisti in realtà è arrivato a 46,5, 46,6 quindi non ha proprio toccato quel livello in particolar modo il fatto che sia salito nella prima decada del mese non mi piace, questo ve l'ho detto anche la scorsa volta lo vedremo oggi, vedremo i pericoli che ci potrebbero essere relativi sempre ragazzi, sempre nel breve termine però andiamo a vedere ETH che ha fatto un massimo addirittura a livello weekly, un doppio massimo con il suo ATH in close weekly e poi vi faccio vedere anche il grafico sul settimanale di Bitcoin, riflettiamo su dove siamo da un punto di vista ciclico quali sono le prossime resistenze e tutto quello che come sempre ci diciamo in questi super video dell'UniD ho pronti già i grafici come vedete qui dietro di me e poi ragazzi iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto come sempre sostenetemi perché mi date una mano, sono veramente indaffardissimo in questo momento ma per cui registrare i video in ogni caso, poi vi lascio anche il canale Instagram at tradingon.it per tutto quello che stiamo costruendo anche lì in questo momento ok bene ragazzi, allora mi spotto, non sono più abituato a fare riprese con l'iPhone la qualità è veramente pessima rispetto alla mia camera di prima vabbè, ma l'importante in questo caso è il contenuto va bene, tanto durerà solo per questo video ragazzi allora questo è Bitcoin, davanti a me andiamo a fare il punto della situazione un po' per capire che cosa sta succedendo allora in Academy proprio nella giornata di ieri abbiamo discusso sulla possibilità che in effetti il ciclo annuale sia iniziato il 22 giugno e non il 19 luglio questo è possibile? Sì ha una grande rilevanza in base a un ciclo annuale una estensione di 20 giorni in più? No non cambia praticamente niente perché tanto la questione legata all'annuale poi eventualmente se è iniziato a giugno o luglio quindi con un mese di differenza non cambia perché la volatilità è di chiusura e di durata e gli annuali è sicuramente superiore anche al mese perciò questi giorni potrebbero essere anche recuperati o meno però potrebbe cambiare nel breve periodo questa situazione questa situazione è qui io continuo a ragionare sul fatto che la struttura ciclica sia iniziata il 20 luglio c'è da dire che probabilmente nella chiusura del mensile di settembre abbiamo ancora una risposta a questa un po' un'idea generale di questa diciamo fase teorica diciamo questa idea teorica ma non cambia niente a livello operativo allora ragazzi invece da un punto di vista tecnico secondo me la close del mensile che è iniziato il 19 di luglio non è avvenuta il 19 di agosto ma qui cioè il 25 circa cioè in questa zona qui lo ritengo più opportuno per una serie di motivi intanto essendo molto rialzista il 19 era veramente troppo preciso quindi probabilmente qualche giorno in più ci poteva stare e poi per il fatto che questa costruzione del mercato mi dà un'idea migliore sul fatto che probabilmente questa fase di riflessione sia stata un po' più accurata ancora una volta 5-6 giorni di differenza sul mensile non cambiano granché comunque in linea di massima per tagliare la testa al toro li uniamo tutti e due quindi andiamo a posizionare una scadenza prossima probabilmente intorno alla fine del mese di settembre ragazzi ok allora c'è anche da dire un'altra cosa i precedenti cicli vedete su bitcoin che includevano più mesi sono stati nell'ottica di più o meno 90 giorni quindi trimestrali anche qui trimestrali classici allora se dovessimo anche Ethereum lo vedremo in questo frangente ragazzi se dovessimo andare a fare questo tipo di logica dovremmo spingerci un po' più avanti e ragionare in termini di una questione legata fino a ottobre perché facciamo queste riflessioni nel video di oggi? per cercare di capire meglio se in effetti siamo vedete a metà di un trimestrale se fa un trimestrale anomalo con una struttura a cicli ternari allora probabilmente il massimo avviene durante la fase centrale quindi proprio dove siamo in questo momento e lo so non sarebbe il massimo perché andremmo a indicare probabilmente un trimestrale che abbia che ha o sta facendo diciamo la sua fase di massimo questo in realtà è possibile per una riflessione che facciamo in questo video ragazzi un po' più complesso del solito perché la questione legata al mercato sia un po' complicata quindi bisogna stare un po' più sul pezzo per capire nella fase di breve come si sta evolvendo la questione quindi se questo discorso che vi sto dicendo è vero il mercato sta disegnando il massimo di questa struttura che poi andrà a chiudersi probabilmente verso la fine del mese di ottobre quindi abbiamo ancora delle fasi intermedie e probabilmente il disegno ciclico che sta andando a coppiere è fatto in questo modo qui 1, 2 e poi il terzo finale in questo modo qui come sempre ragazzi io devo disegnare con la touch bar del come si chiama insomma la barra del Mac ed è veramente un disastro comunque una cosa del genere quindi questo potrebbe essere la struttura fino a ottobre e potrebbe il mercato star disegnando appunto una fase centrale di massimi che potrebbe essere o questa di questo momento oppure la successiva dopo la fase di riflessione che dovrebbe avvenire verso la fine del mese di settembre trasporiamoci quindi a vedere anche quelli che invece sono i cicli un po' inferiori quindi se la parte centrale è iniziata probabilmente in verso il 26 di agosto andrà in sua naturale scadenza probabilmente intorno al 22 di settembre bisogna fare quindi attenzione ragazzi a questa fase ed è il motivo per il quale io preferivo un bitcoin o comunque un mercato crypto leggermente più debole nella prima parte perché avrebbe avuto la possibilità di darci dei massimi di rilievo verso la fine del mese invece considerando il fatto che in questo momento il mercato sta disegnando la sua parte alta ma non ha fatto nel mese di settembre nessuna livello di minimo rilevante perché praticamente ha fatto l'opening del mese e è schizzato su ragazzi abbiamo solo due ipotesi e sono entrambe estreme o il mercato sta disegnando un massimo e poi va giù a rompere i minimi del mese di settembre non c'è un'altra soluzione oppure continua a salire e basta ok ragazzi cioè non abbiamo la soluzione intermedia secondo me cioè il fatto che si ferma e aspetta la fine del mese quella non c'è io la escluderei in questo caso proprio per questa peculiarità però proprio per un discorso di volatilità in questo momento il mercato può fare ancora up ragazzi quindi se andiamo su per il mese di settembre non è finita qui se invece il mercato inizia ad avere fase di bassista diventa preoccupante perché potrebbe andare sotto i 46 mira non abbiamo lo spettro medio cioè non abbiamo la fase che fa un piccolo rialzino e poi si assesta questo è il problema di fondo come sta disegnando questo mese di settembre diventa pericoloso ragazzi proprio nei prossimi giorni probabilmente oggi è 6 fra 3 giorni circa iniziamo a vedere se la cosa va bene o male se il mercato continua a salire va benissimo perché può arrivare anche a 54 ora vi mostro la resistenza ma se il mercato inizia a stentare diventa molto pericoloso perché un'eventuale fase di debolezza in questo momento ha un'altissima probabilità di spingere bitcoin sotto i 46 mila dollari questo è un problema che bisogna andare a considerare anche per il via del fatto che per esempio il TH è al suo massimo storico in questo momento è vicino alla TH e quindi ragazzi e beh insomma la questione si complica allora benissimo questa è la fase attuale veramente complicatissima sono un po' a che contetto io mi galvanizzo quando le cose diventano più complesse perché mi fa anche un po' muovere un po' di più per capire il mercato e per seguire troppo a tutte quelle che sono le questioni quindi sono veramente molto diciamo infibrillazione per questa cosa certo che ancora non sono tornato neanche dalle ferie e mi fa questo disastro diciamo che non è un disastro insomma mi fa questa difficoltà di previsione ma ci sta per i mercati allora vi faccio vedere qual è il livello che potrebbe raggiungere al livello della settimanale proprio per il mese di settembre e poi eventualmente iniziare a dare una serie di problematiche proprio come vi accennavo prima allora potrebbe arrivare qui in questa a questo livello qui che magari disegniamo con un bel bianchino così abbiamo meno meno confusione con gli altri allora questa è la zona 55 ragazzi se arriva a 55 circa siamo saldi cioè nel senso che poi un'eventuale fase di ribasso non dovrebbe avere grande possibilità di portarci di nuovo sotto i minimi del mese di settembre se invece proprio da 51 52 come stiamo metti il mercato inizia una fase di bassista purtroppo la possibilità di ritornare sotto i 46 è importante quindi siamo in uno snodo non va bene la fase media quindi la fase media va bene solo dopo che abbiamo raggiunto i 55 allora lì può riposare ma fino a quando non ci arriva siamo a rischio ragazzi addirittura di scendere sotto i minimi del mese di settembre proprio per questa peculiarità che il mercato ha dato il via a Urrelli senza fare un minimo rilevante proprio nel mese all'inizio di settembre questa è la questione partiamo da TH per quanto riguarda questa fase faccio vedere prima il grafico plastico che noi analizziamo anche qui ragazzi TH io l'ho disegnato così a livello di struttura ciclica mi piace di più considerare la sua fine dell'anuale il 20 luglio secondo me siamo ancora in questa fase e continuo a ragionare così poi magari nei prossimi giorni e nelle prossime mensili se dovessi verificare delle incongruenze andremo ad aggiornare questa fase allora guardate dove siamo con TH siamo a un doppio massimo anche questo potrebbe andare a configurare quella fase di pericolo cioè il fake break magari anche con un ATH quindi una cosa del genere che poi però va a confluire con un minimo proprio come quello di Bitcoin che vi ho fatto vedere nella stessa tipologia di scadenza quindi intorno alla fine del mese di settembre in questa fascia temporale qui ragazzi però considerando che tra qui e qui è stato chiuso sicuramente la prima parte di questa struttura su TH che TH di solito fa questi cicli un po' più lunghetti quindi la sua struttura mediana dovrebbe essere intorno al 2 ottobre quindi configurare una fase di debolezza che avviene sempre un po' ritardata rispetto a quello di Bitcoin è sempre stato così un po' TH quindi potremmo avere una cosa del genere per intenderci che va a fare un fake break e poi una close con un minimo di Bitcoin che verrà raggiunto a fine mese magari settembre oppure TH che invece fa questa sua fase di riposo un po' più in là rispetto a Bitcoin quindi questa è la struttura la resistenza è unica ragazzi ed è 4200 dollari non ci sono altre resistenze per quanto riguarda TH anzi TH può andare tranquillamente in una fase di price discovery perché basta una close daily anche sopra i 4200 dollari per indicare nuovo ATH non ATH nuovo ATH time high storico per quanto riguarda la regina della cripto ancora una volta estremamente forte un ottimo periodo per ETH noi ne stiamo parlando ormai da un anno ma vi faccio vedere anche il grafico settimanale di ATH perché perché su questo grafico si evidenzia che addirittura siamo già arrivati in close della settimana ad un nuovo time high anche se in effetti sono pochi dollari quindi in sostanza dovremmo semplicemente dire che ha fatto un doppio massimo chiusura 3.951 per la candela della settimana scorsa ed era la precedente era 3.928 quindi festeggiamo uno all time high finito perché in realtà è semplicemente un doppio massimo per Ethereum però ragazzi questo è anche estremamente significativo perché vuol dire che ETH sul grafico settimanale nella settimana che viene oppure nella prossima dovrà spingere per andare a breccare questo livello se lo fa probabilmente assisteremo a una leggera bull run settimanale proprio perché fa nuovi massimi e poi lì magari potrebbe andare a configurare la close del mese di settembre come vi ho spiegato semplicemente facendo quindi un nuovo massimo e poi ritracciando con una forma di pullback anzi ve lo faccio vedere a livello grafico anche sul grafico settimanale magari fare una cosa del genere e poi un ritracciamento leggero per un pullback e poi fare l'ultimo movimento che potrebbe essere così per chiudere invece poi come vi ho detto anche su Bitcoin anche in questo caso verso metà di ottobre quindi la parte poi finale di questo movimento dovrebbe essere vedete ah no qui sono settimane ragazzi quindi dovrebbe essere scusatemi intorno a questa zona qui quindi metà di ottobre circa ok perché qui era una settimanale e non daily va bene allora questa è la struttura di ETH e TH più forte e andiamo alle conclusioni perché poi bisogna andare alle conclusioni e anche a cercare delle fasi operative allora ragazzi da un punto di vista di breve non sono entrato su questo mercato primo perché non sono ancora operativo al 100% fino a metà di settembre sarò fuori e quindi non mi sono sentito di andare a fare training anche perché ragazzi poi bisogna seguirle queste tipologie di operazioni quindi volevo stare più tranquillo ok da un punto di vista di investimenti medi uno dei miei trading system è rientrato ma a prezzi molto alti poi ci sono gli altri che invece hanno performato bene stavo solo di trading system per quanto riguarda invece gli holders e il medio lungo periodo ragazzi è long e resta tutto long non c'è nessun segnale in questo momento di inversione di trend è ovvio che la mia logica operativa per quanto riguarda l'holding ragazzi è sempre ed esclusivamente ad inversione di trend non vado a cercare dei livelli di take profit per quanto riguarda quel tipo di operatività bensì quello che faccio è verificare quando inverte un trend oppure mi arriva uno dei miei segnali nei miei trading system di copertura short di copertura allora io prendo profitto dalla posizione ma quei sistemi sono rientrati long a intorno ai 30-31 mila dollari di bitcoin e anche su eth è tutto full long non si esce mai quello che facciamo in questo momento invece è avere un'idea generale di dove siamo per capire i rischi a cui andiamo incontro ragazzi questo è fondamentale perché poi moltissimi di voi invece hanno problematiche magari a comprendere un'analisi che ragiona su 30 giorni piuttosto che una cosa che va per lungo periodo ok ragazzi non potete avere la botte piena la moglie ubriaca quindi se ragionate di medio-lungo periodo ricordarvi non uscirete mai ai massimi anzi ragionate proprio così perché vi serve anche per aiutarvi a non avere problemi emotivi non entrare in fomo in fub eccetera ok quindi questo è fondamentale quello che stiamo dicendo oggi che vi sto dicendo oggi non è che bitcoin va in pericolo ai prossimi giorni inverte crasha no non è questo ma la questione legata al mese di settembre è in una fase pericolosa al mese di settembre ragazzi quindi parliamo di 10 giorni ok 20 giorni massimo perché c'è questo problema che vi ho detto è iniziato troppo rally all'inizio mese quindi il mercato potrebbe decidere o di fare un nuovo massimo e poi assestarsi ma deve arrivare intorno ai 55 questi di ora non vanno bene questa è la questione se da qui può parte un movimento un po' di debolezza si rischia gravemente di andare a fare un mese rosso addirittura questa cosa la vedremo nei prossimi giorni e staremo con gli occhi puntati per oggi è tutto ragazzi come sempre iscrivetevi se ancora non l'avete fatto fatemi sapere un po' anche quello che pensate analisi complessa eh chi di voi è riuscito a mettere tutti i puntini sulle i sfido va bene ci riaggiorniamo nel prossimo video ciao a tutti ciao a tutti